Un caldo così a fine settembre non si era mai sentito, ci sono punte addirittura ancora che toccano più di 30 gradi. Sentiamo che cosa ne pensano i rodigini, se sentono effettivamente questo cambiamento climatico e se li preoccupa. Sono serena, sono tranquilla, il clima è bellissimo, me la sto godendo con questo tempo meraviglioso. Non sono particolarmente preoccupata, per quello mi è dato sapere, le modificazioni sulla terra ci sono sempre avvenute. Non per niente i dinosauri sono spariti in virtù delle ere glaciali, quindi per il momento mi sento tranquilla, prendiamo quello che viene. L'estate non è stata eccessivamente calda, che ne dicessero i media nazionali, anzi è stata più piovosa del solito. Quindi insomma c'è qualcosa che non corrisponde, no, non sono preoccupata comunque. Diciamo che la situazione è molto anormale rispetto agli anni passati, diciamo che in anno in anno sta sempre peggiorando il tutto. Io personalmente sono parecchio preoccupata, nel senso che 30 gradi a quasi ottobre in pieno autunno non è molto normale. Ecco come cosa, quindi sì, sono parecchio preoccupata anch'io, come si può ben capire. Visto che negli ultimi anni è andato sempre peggio e continuerà secondo me a peggiorare, ma finché non ci saranno delle manovre che riguardano realmente tutti, quindi dal più piccolo al più grande membro della società, non cambierà assolutamente niente. Assolutamente sì, credo sia una cosa che dovrebbe preoccupare tutti e spero che si attivino al più presto degli interventi anche di prevenzione e di informazione nelle scuole. Grazie.